Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La conduttrice di Dazen, Diletta Leotta e il portiere del Newcastle, Loris Karius, stanno per convolare a nozze. Sono stati svelati i primi dettagli del matrimonio attraverso gli invitati. Il Teresia Resort di Vulcano è stato scelto come location per celebrare l'amore della Coppia, un hotel di lusso prenotato per l'occasione, con prezzi che si aggirano intorno ai 1.500 euro a persona. Il matrimonio si terrà alle 19 di questa sera, sabato 22 giugno, nella chiesetta delle Grazie di Gelso a Lipari, risalente al 1668, ufficiata dal parroco Lio Raffaele. Oltre 150 persone sono attese per partecipare alle nozze, tra cui Chiara Ferragni e Delodì. La lista degli invitati riflette la popolarità della coppia nel mondo dello sport e dello spettacolo. La prima volta che ci andai dissi io mi sposerò qua. Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni, ha dichiarato la sposa in un'intervista riguardo alla scelta di festeggiare sull'isola. Sembra che gli sposi abbiano pianificato di arrivare in elicottero alla location per un ingresso trionfale che sarà difficile da dimenticare. La cerimonia sarà seguita da un ricevimento all'aperto, in una location situata sull'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle isole eolie in Sicilia, in una posizione mozzafiato, affacciata sul mare e immersa.